Torna il doppio senso di marcia in via Roma nel tratto tra via Cavour e via Americo Amare a Palermo a stabilirlo un'ordinanza dell'Ufficio Mobilità del Comune. Anche la linea 101 torna dunque a percorrere il tragitto originario tra stadio e stazione centrale. L'ordinanza stabilisce anche il divieto di sosta con la rimozione coatta H24 in entrambe le direzioni nel tratto a doppio senso tra via Roma e via Mari. L'obbligo per i veicoli di andare dritto all'incrocio tra via Cavour e via Roma in direzione stazione centrale è l'obbligo di procedere dritto nell'intersezione tra la via Americo Amare e la via Roma in direzione Piazza Dosturzo. Disposta anche la segnaletica con dicitura direzione porto in corrispondenza della svolta a destra tra la via Roma e la via Francesco Guardione in direzione stazione centrale. La sistemazione della segnaletica con la scritta direzione Teatro Massimo in corrispondenza dell'intersezione tra via Roma e via Americo Amare in direzione via Roma in corrispondenza della svolta a destra nell'intersezione tra la via Roma e la via Francesco Guardione in direzione stazione centrale e in corrispondenza della svolta a destra nell'intersezione tra la via Villa Hermosa e la via Cavour. Disposto anche il rifacimento della segnaletica di attraversamento pedonale sempre nel tratto in questione. AMG inoltre dovrà ripristinare il semaforo all'incrocio tra via Roma e via Cavour.